Ivan, si gioca o non si gioca? È difficile allenarsi con il pensiero che non si sa attualmente se effettivamente Mestre Teramo si giocherà domenica? Non sappiamo che succede, perché ovviamente noi dobbiamo pensare che si gioca, perché è capitato anche qualche anno fa. Mi ricordo che la prima era dovevamo andare ad Aversa ed era la stessa cosa. Poi si giocò perché ci fu il venerdì l'anticipo Perugia-Nocerina, che comunque si trovarono gli accordi tra l'ECI e la federazione, quindi si giocò. Quindi noi dobbiamo preparare la partita come si giocasse, poi se non si gioca, però noi dobbiamo essere pronti per questa partita. Non si può dire che il Teramo sia una squadra di struttura, se non in alcuni elementi, però un Teramo veloce, rapido, giovane, ti piace questa squadra? Sì, sì, è costruito per questo, quindi ovviamente in struttura perdiamo qualcosina, ma recuperiamo in un altro modo. Quindi è un Teramo che bisogna sfruttare le proprie caratteristiche, quelle di recuperare palle con giocatori così piccoli e veloci e far male subito le squadre negli ultimi metri. È un inizio che Asta e Repetto non hanno gradito, perché ne ha promossa all'inizio, poi turno di riposo e poi Vicenza, che è una formazione totalmente diversa da quello che sarà il mestre. Tu cosa ne pensi? Sì, ne penso come loro, perché comunque giochiamo in casa dopo un mese, quindi non è una cosa positiva per noi. Dopo subito la prima partita riposo la seconda, non è sicuramente positivo, però purtroppo, come ha detto anche il mestre in conferenza, è capitato a noi, ci siamo e purtroppo dobbiamo fare questa partita.